Perugia si ha regalato un gran finale, si può dire, nel senso una partita al derby alla penultima giornata che non ha valore solo come derby ma anche valore come ambizione per entrare ancora nei play-off. Sì, arrivare a domani alla trentasettesima giornata e giocare ancora per degli obiettivi in una cornice importante e quanto di più i calciatori potevano meritare. E quindi è una grande opportunità e quindi grande merito alla squadra di potersi giocare questa grande partita. È molto bello e quindi è una grande emozione e quando arrivano le emozioni sono sempre piacevoli. Mister, l'avversario di domani su 18 gare Casalinga mi sembra che ha ottenuto 8 vittorie, 2 pareri e 8 sconfitte. Facendo 29 reti, subendo nei 27. Secondo te, Cristiano Lucarelli, come imposterà la partita? Abbiamo grande rispetto della squadra, della Ternana, grande rispetto. Sappiamo che è una squadra che è in salute, lo testimoniano gli ultimi risultati e andiamo là consapevoli di quello che troveremo davanti. Ma noi siamo il Perugia e vogliamo fare il massimo, come abbiamo sempre fatto in ogni partita. Grande rispetto per loro, ma faremo la nostra partita per fare il massimo. Mister, buongiorno. Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Che eredità lascia la gara di andata? Cioè, rispetto a quanto è successo all'andata, cosa si può tenere in considerazione in vista di domani? Grazie. La gara di andata ci dice che abbiamo fatto un ottimo primo tempo spendendo anche tanto sotto il profilo delle energie quindi possiamo domani fare anche una partita diversa perché siamo in grado anche di poterle fare. fu una partita secondo me piacevole, bella, un bel derby e lascia tanti insegnamenti la partita d'andata sotto tutti i punti di vista tecnico, tattico, psicologico, fisico e sicuramente da quella partita lì c'è stato anche un miglioramento da parte della squadra perché poche volte abbiamo fatto buoni primi tempi e secondi tempi diversi abbiamo avuto più equilibrio e quindi ci è servita quella partita lì e domani può essere una partita che quella partita lì dell'andata può servirti per per non ripeterla anche se alla fine fu un'ottima prestazione del Perugia, ottima. Avere più equilibrio durante i 90 minuti più noi facciamo un grandissimo primo tempo un secondo tempo un po' diverso ma perché abbiamo speso tanto forse nel primo tempo in alcune situazioni. Sì mister le chiedo se c'è qua ancora qualche situazione da valutare in vista di questa partita per quanto riguarda i singoli, grazie. Non saranno a disposizione Angela e Murgia Angela per l'operazione al menisco è stato fatto un grande lavoro dal professor che l'ha operato il professor Cerulli è stato fatto un grande lavoro dallo staff mio dal preparatore atletico e molto probabilmente Angela lo rivedremo almeno a disposizione per l'ultimo campionato quindi grande merito a loro faremo di tutto per averlo almeno in panchina con il Monza e questo è grande merito di chi l'ha operato e del mio staff e del professor Artico e di tutto lo staff medico del professor e per quanto riguarda Murgia c'è un'infiammazione al perone e non è disponibile per il resto da valutare sicuramente la settimana diversa di Lisi e curato queste sono le valutazioni che farò dal punto di vista fisico per il resto ci saranno delle scelte quelle che ho sempre fatto e vedremo come voglio impostare la partita come vogliamo impostare la partita ma sicuramente ci saranno delle scelte anche legate a come vogliamo giocare Buongiorno mister Domenico Cantarini di solito queste partite è chiaro che conta molto l'aspetto mentale conta molto diciamo la compattezza di squadra però spesso e volentieri poi sono anche i singoli che decidono che decidono gare così diciamo emotive anche ti chiedo secondo te diciamo dove si deciderà la partita questo tipo di partita contro una Ternana che abbiamo visto nell'ultimo periodo diciamo tenere un rendimento molto importante e capace di mettere in difficoltà un po' tutti ma sono convinto è importante i colpi dei singoli ma senza la squadra non andiamo da nessuna parte il singolo ti può far vincere la partita e può essere che può succedere domani ma quello che è importante è la squadra e io ho sempre detto in questi giorni di volersela godere questa partita avvicinarsi avere il gusto il piacere di giocarla per fare il massimo perché attraverso queste partite qui passa la crescita dei calciatori sicuramente i colpi individuali sono importanti le abbiamo noi le hanno loro ripeto è una partita bella e ognuno dei due ognuno delle due squadre proverà a vincerla come noi vogliamo farlo lo farà anche loro sicuramente e quindi vedo se ci sarà qualche corpo individuale che può risolverla noi ne abbiamo alcuni può risolverla De Luca Olivieri Carretta Matos con una giocata ad Urso loro hanno giocatori che possono risolvere ma quello che più interessa a me è la squadra quello che la squadra vuole fare c'è secondo te una squadra che ha più da perdere dell'altra in questa partita? il campionato del Perugia oggi è straordinario punto non lo so non mi interessa questo Antonio Ferroni messaggero ciao c'è stata una decisione da parte dei tifosi di non partecipare alla trasferta c'è però comunque una partecipazione tifosi non dei gruppi ma del resto ci sarà quindi comunque tutta l'Umbria bianco-rossa dietro questa partita a seguire la partita a prescindere quanto la squadra sente il derby in quanto tale e quanto invece ritiene che sia importante la partita in sé per arrivare ai playoff per il risultato in generale è il derby dell'Umbria mi piace definirlo così e lo rispetto tantissimo e sono fortunato a viverlo come l'ho già detto all'andata non siamo mai stati soli quest'anno fin dalla prima partita fin dalla prima partita a Genova ufficiale di Coppa Italia la prima trasferta a Pordenone ricordo ancora la prima vittoria con i tifosi al seguito e non saremo mai soli neanche domani giocheremo fuori cassa in uno stadio sicuramente che ti ferà tutto per la Ternana ma noi sappiamo che abbiamo i nostri 400 al seguito e sappiamo che a cassa abbiamo chi ci spingerà e quindi da questo punto di vista siamo sereni e contenti perché sappiamo che non siamo mai soli e non saremo mai soli e se quando ti siedi sulla panchina del Perugia e vivi certe partite non ti sentirai mai solo assolutamente e faremo di tutto per regalare una gioia ai tifosi la decisione non lo so mi sono concentrato sul mio lavoro io rispetto qualsiasi situazione però non mi sono mai sentito solo quest'anno né io né la squadra e anche domani sappiamo che non saremo soli assolutamente Buongiorno mister Andrea Franceschini Umbria Radio di solito nei derby in generale insomma il pareggio è un'opzione che non scontenta nessuno e purtroppo non prena nessuno però comunque in alcune situazioni magari conviene Perugia in questo caso ha un altro obiettivo quindi probabilmente il pareggio non è non è un'opzione questo per la sua mentalità è un è un vantaggio probabilmente perché lei vuole andare sempre dentro a vincere oppure ritiene che alzare avere un obiettivo in più comunque aumenti ancora di più la l'importanza e probabilmente anche l'ansia di giocare questa partita per i suoi giocatori l'ansia non esiste non esiste né ansia né paura esiste il piacere il gusto di volerti godere questa partita e ritenerti fortunata a poterla giocare e poi il Perugia fuori casa ha vinto otto partite ne ha pareggiate otto e perse due di cui una non ne voglio parlare come è persa non è stata persa dalla squadra punto e quindi sappiamo delle difficoltà giocheremo per fare il massimo abbiamo sempre giocato per quell'obiettivo anche in casa dove in casa invece abbiamo avuto un rullino opposto più negativo abbiamo però ancora una partita per metterlo in piedi anche quello positivo e quindi noi giocheremo per fare il massimo poi bisogna vedere a livello tattico se vogliamo fare una pressione alta se la vogliamo fare indirizzata se vogliamo aspettarli questo è un altro discorso ma giocheremo per fare il massimo non esiste l'atteggiamento è un atteggiamento vincente di questa squadra la mentalità è quella poi dall'altra parte c'è un avversario che rispettiamo enormemente ma noi metteremo in campo quello che è il nostro atteggiamento la nostra disciplina il nostro focus la nostra attenzione la nostra voglia le nostre idee sicuramente mister proprio ricollegandomi a questo a quanto appena detto pur paradossale che possa sembrare può essere un vantaggio per voi date le vostre caratteristiche dato il vostro vissuto in questa stagione giocare il derby in trasferta no non c'è una partita come questa non vedo un vantaggio o un svantaggio io vedo solo una grande partita una grande giornata di sport un grande derby da vivere per tutta l'Umbria per Perugia avere il piacere di giocarlo per fare qualche cosa di ancora più importante ripeto il campionato oggi è positivo a due giornate dalla fine ci capita un derby così con tanti significati vogliamo viverlo al massimo al massimo con tutto quello che ti porta dentro una partita del genere nell'ultima giornata di campionato ci sono successi anche un po' di risultati diciamo anomali è normale diciamo squadre dell'alta classifica che hanno sbattuto i denti contro squadre elettrocezze normalissimo la scorsa settimana quando qualche d'uno ha presentato la partita a Parma Perugia Parma è stato detto arriverà un Parma demotivato so quanto di più ingenuo dilettantistico si possa dire di queste partite non esiste non esiste assolutamente oggi un calciatore professionistico non è un calciatore mediocre e con ogni partita la va a vivere con il massimo della professionalità non può permettersi di perdere guardate cosa è successo al Parma terza sconfitta e quindi verranno tutte le partite sono giocate tutte questo riferimento alle ultime partite sicuramente tutte le partite se no non si spiega come mai il Bologna può battere l'Inter il calcio è questo è cambiato chi parla di motivazione le motivazioni oggi un calciatore professionistico le ha dentro per sé perché è già di questo